Edo Bergui con Cecina, una vittoria pesantissima al termine di una partita tirata, grande nervosismo soprattutto nel finale di gara. Voi siete stati forse più bravi a tenere i nervi saldi e averla meglio alla fine della gara? Assolutamente sì, è una vittoria che per noi vale doppio. Continuiamo ad avere problemi di infortuni, anche stasera Terence si è scavigliato, ma nonostante questo è tornato in campo. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, era una giornata speciale perché abbiamo cercato di ricordare Kobe Bryant all'inizio e alla fine di questo match. E quindi è stato il giusto finale per tutto, è stata una serata bella, intensa, con tantissimo pubblico, tantissime maglie Lakers. E quindi il finale è stato semplicemente la ciliegina sulla torta. Che sapore ha una vittoria come questa? Non tutte le vittorie sono uguali, forse questa qui ha un sapore particolare. Assolutamente sì, anche perché era uno scontro play-off, loro erano dietro di noi, avevano bisogno di vincere per riagganciare il treno play-off. E noi così siamo riusciti ancora a allungare e a consolidare ancora di più la nostra classifica. Adesso avremo la trasferta a Luca di domenica, sarà difficile perché abbiamo speso tantissime energie questa sera, però proveremo ad andare là e vincere di nuovo.